Buongiorno, stiamo a Rocca nella masseria Ginestra al termine di una bellissima passeggiata naturalistica e non solo, fatta con carissimi amici. Siamo partiti dalla masseria Mero, Rocca Forzata, siamo andati poi verso la Pineta di Faggiano per arrivare qui alla masseria La Ginestra. La cosa bella di questa passeggiata naturalistica è stata quella di seguire i ritmi della natura attraverso le capre ioniche. Abbiamo seguito il percorso delle capre ioniche parlando delle loro abitudini, dei territori che vedevano e abbiamo osservato dei panorami fantastici di Taranto. Questa nostra passeggiata l'abbiamo chiamata Un giorno da pastore perché è una passeggiata un po' psico-naturalistica, ovvero guardiamo che fanno le capre, che cosa mangiano, guardiamo questo territorio calcareo ricco di ginestre, ricco di macchia miterranea, molto piena di rivisto, molto piena di asfodeli, però osserviamo anche tutto quello che succede e diventa anche un bellissimo modo per stare insieme. Lungo il percorso abbiamo visto la Pineta di Faggiano con tutte le capre che urcavano ed è stato bello seguirle. Poi siamo andati al punto più alto, verso i 180 metri, con il Monte d'Oro. Chi ci ha accompagnato è stata la famiglia Mero, una famiglia che non solo coltiva da tanto tempo questa bellissima tradizione, ma è legata e cerca di valorizzare tutto quello che è nel territorio attraverso la conoscenza. Qui c'è il signor Mero, Mero Michele, il figlio Mero Vincenzo e Mero Giovanni. Il signor Mero Michele ha la prima masseria della famiglia Mero e il signor Giovanni la seconda che è praticamente la masseria, la ginestra. Noi stiamo proprio nella masseria ginestra e stiamo vedendo tutti i prodotti loro, buonissimi, originalissimi nella loro produzione e sono assolutamente, ci hanno raccontato, privi di ogni forma di conservante, quindi è stato bellissimo guardare queste capre, il loro percorso e vedere poi attraverso il loro latte quello che è la produzione. Ci ho accompagnato un fotografo perché ogni nostra passeggiata è sempre accompagnata da chi ci aiuta poi per valorizzare, per far conoscere, per la comunicazione e mi sono fatta accompagnare oggi da amici carissimi, dalla dirigente scolastica Anna Sturino, dall'avvocato Donato, poi da altri amici che hanno voluto condividere con me questo momento di piacere, di conoscenza del territorio a 360 gradi.